Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha riaperto il cantiere sulla strada Parco, le amministrazioni di Pescara e Montesilvano sono al lavoro per sistemare intanto il verde sull'intero tracciato. Settembre rappresenta l'inizio del conto alla rovescia. L'obiettivo è adeguare il percorso alle regole necessarie alla sicura convivenza tra filo, buspedoni, ciclisti e mezzi privati entro gennaio 2024, data prevista per l'inaugurazione del servizio atteso da oltre 30 anni. La tua nel frattempo ha iniziato la formazione di futuri autisti che saranno la guida dei mezzi van o hall da 18 metri. Puntualizza l'azienda di trasporto pubblico locale che ci sarà un primo test a novembre. Non ci fermiamo qui. Il Comune di Pescara ha già depositato da diverso tempo il progetto per la realizzazione del secondo e del terzo lotto della filo via. Per cui questo straordinario strumento ecocompatibile ad impatto zero in sede riservata e protetta in via principale avrà in futuro anche la propria realizzazione fino ai confini con Francavilla al mare e anche oltre l'aeroporto di Pescara fino al Comune di San Giovanni Teatino che ha aderito a questo progetto. Quindi progetto da 61 milioni di euro che va ad integrarsi ai lavori che stanno già in corso di esecuzione da parte di TUA. L'obiettivo è dunque ridurre l'impatto del traffico privato in entrate in città ma lo sguardo è rivolto al futuro nell'ottica della grande Pescara. Insomma progettare oggi significa far fronte a esigenze di mobilità sostenibile che sono già mature e che il tempo non farà altro che evidenziare. Un mezzo di mobilità che soprattutto dovrà finalmente fare fronte ai problemi di inquinamento che attanagliano Pescara ma in una visione anche che è quella della Pescara di domani, della Pescara con Montesilvano e Spoltore, quella del 2027 che faranno di Pescara la diciannovesima città in Italia.